L'abito non fa il monaco di Cri 63. Decido di indossare il mio piumino imbottito, grigio come il cielo di oggi pomeriggio, lungo fino quasi alle caviglie. Aggiungo il barretto con pompon, sciarpa e guanti dello stesso colore ed eccomi qui pronta a sfidare il signore inverno. Le guance, unica parte del mio corpo visibile, diventano rosse per il freddo. La piazza è deserta, non passa nessuno. Vedo solo un signore avanzare nel senso opposto al mio. Ho notato che ha con sé una valigetta 24 ore, forse un funzionario di banca o un avvocato che va a aprire il suo studio, insomma una persona perbene a giudicare dall'apparenza. In breve tempo le nostre rette si incrociano e all'improvviso sento tutto ciò che mai avrei voluto ascoltare. Ce l'ha proprio con me. Ma come si permette? Ma come può pensare di dire cose che a nessuna donna si dovrebbero dire? Le disgustose parole che gli escono dalla bocca mi colpiscono come una valanga di schiaffoni in pieno viso. Le mie orecchie sentono cose vergognose. Le sue fantasie peggiori le sta sfogando su di me. In pochi secondi, nello spazio di tre o quattro passi, si consuma una violenza verbale che è destinata a rimanere a lungo nella mia memoria.